Ehi, Marco! Sto leggendo a proposito dei militari svizzeri all'estero. Visto che presti ancora servizio militare, puoi spiegarmi che cosa fanno i militari svizzeri all'estero? Sì, certo! I soldati si impegnano per il promovimento della pace in regioni insegnate da conflitti. È uno dei tre compiti dell'esercito svizzero, oltre alla difesa e all'appoggio a favore delle autorità civili e, in quanto tale, è sancito dalla Costituzione federale e dalla legge militare. E chi decide la destinazione? Prima che la Svizzera partecipi a una missione di promovimento della pace, è necessario un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Dopo una richiesta di partecipazione, la politica decide se la Svizzera prenderà parte alla missione e, in seguito, conferisce l'incarico all'esercito. In seno all'esercito, il Centro di competenza Swissint è l'organo competente per gli impieghi. Che cos'è Swissint? Swissint è il Centro nazionale per la condotta degli impieghi dell'esercito per il compito promovimento della pace. Tra i suoi doveri troviamo anche l'informazione sulle possibilità di impiego per le persone interessate e il loro reclutamento. L'impiego in una missione internazionale è volontario e, proprio come per un posto di lavoro qualsiasi, bisogna candidarsi. Chi supera il processo di selezione verrà equipaggiato con il materiale necessario, riceverà un'istruzione in funzione dell'impiego ed, in seguito, sarà inviato all'estero. Durante gli impieghi, Swissint è in contatto permanente ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24, con i militari e li assiste in caso di necessità. I compiti delle missioni consistono, per esempio, nel sorvegliare gli armistizi, nell'evitare escalation nelle regioni di conflitto o nell'assumere compiti relativi allo sminamento umanitario. A tal proposito, c'è bisogno di un gran numero di funzioni, come ad esempio in ambito artigianale e logistico, nel trasporto aereo e su strada, nell'assistenza sanitaria, nell'osservazione e nell'analisi della situazione, in attività di pianificazione e di organizzazione, lavorando, ad esempio, in uno stato maggiore multinazionale. È così possibile acquisire molte esperienze lavorando in un contesto internazionale e trarne beneficio sia nella vita privata, sia in quella professionale o militare. Anche per l'esercito rappresenta un valore aggiunto perché può beneficiare delle esperienze e delle conoscenze precedentemente acquisite dai partecipanti. Oh, sarebbe l'ideale per Fabian, mio figlio! Dove posso trovare maggiori informazioni su Swissint e sul promovimento della pace? Guarda qui. Sul sito peace-support.ch trovi informazioni su Swissint, sulle missioni attuali e sulle funzioni ricercate. Swissint è il centro di competenza dell'esercito svizzero per il promovimento della pace a livello internazionale. È responsabile per i soldati che offrono un contributo volontario alla pace nelle regioni di conflitto. Grazie a tutti.